E' con orgoglio che parliamo di questa navetta perché parlando col sindaco e ha accolto la nostra richiesta è un mese di prova che si fa con questa navetta, noi contemporaneamente stiamo facendo un sondaggio perché vogliamo cercarla addirittura di incrementare e infatti molti commercianti già si sono disposti a collaborare in questa operazione proprio materialmente cacciando un contributo mensile almeno nei sei mesi estivi, l'idea è importante perché noi abbiamo un problema di deconcessionare le zone centrali abbiamo una situazione dove al centro la maggior parte di chi va a Napoli a lavorare lascia specialmente i mezzi a due ruote nelle parti periferie limitrofe al porto quindi il primo problema è questo, poi ci sono tutti i nostri collaboratori e noi stessi che veniamo a lavorare che al mattino nel svolgere il nostro mestiere lasciamo principalmente i mezzi a due ruote nelle parti centrali poi c'è tutto il traffico delle auto e quant'altro, è inutile dirlo, le zone principali specialmente via Alfredo De Luga, San Ciro e quant'altro sono completamente, e anche tutta la zona che va verso Ischiaponte sono completamente intasate. E' stata presa una posizione finalmente perché abbiamo passato un lungo inverno a parlarne c'è stata chiesta collaborazione da parte del Comune e anche a tutti i commercianti per quanto riguarda una partecipazione fattiva, però il sindaco ha ben fatto e ha messo a via sperimentale questa navetta che farà queste quattro tappe fondamentali nel centro di Ischia bella, fresca, con una immagine innovativa che invoglierà anche a prenderla cammineremo anche un po' a piedi, non intaseremo il centro di Ischia perché sappiamo che purtroppo le macchine sono sempre di più e mai di meno quindi impareremo anche noi in maniera civile ad usare bene questi mezzi di trasporto si prevede che in futuro venga incrementato, vediamo come va, spero bene che gli ischitani reggano bene perché siamo prima di tutto noi che ci dobbiamo abituare a prendere i mezzi pubblici, dopodiché cercheremo anche noi con la Confcommercio di aprire un discorso, anzi ne abbiamo già parlato in un tavolo di lavoro informale per un incentivo, per una collaborazione